Ciao amici di MyFootballGersy, oggi vedremo insieme la maglia di casa del Marsiglia per la stagione 22-23 nella versione player, quella indossata dai calciatori. La maglia Puma, Olympic Marsiglia 2022-23, riporta in auge il classico colore blu del club. Invece di essere bianca e azzurra, la maglia da casa dell'Olympique Marsiglia è bianca e blu royal scuro. Ufficialmente i colori sono Puma White, Limoges. Il blu scuro è stato utilizzato dall'Adidas come colore di accento per le divise di casa del Marsiglia negli anni 70 e 80. Puma usa un colletto a V bianco e blu royal scuro. Anche i polsini delle maniche sono bianchi e blu royal scuro. La tecnologia dei materiali Ultra Wave aiuta a mantenere la pelle asciutta durante l'attività sportiva per offrire una sensazione di comodità e benessere e permetterti di essere sempre pronto all'azione. Anche se è semplicemente una maglia bianca, nella mia, personalissima, ricordo, classifica, questa prende 4 stelle. Mi piace molto questo blu scuro e il contrasto con il bianco e mi piace molto il tessuto della versione Player di Puma. Veramente bellissimo. Qui in alto trovate il prezzo, su questo non si può dire niente, strabasso, ok? E vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e un link per avere un coupon tra 3 dollari. Non dovete far altro che registrarvi e otterrete questo coupon. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Ci vediamo a prossime recensioni, però, prima di farlo, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Dimenticavo, fatemi sapere quali altre maglie vorreste vedere e fatemi sapere cosa ne pensate delle maglie che vedete sul sito, così che io possa regolarmi per di più. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.